Buonasera Padova del Pride Village, benvenuti all'ora, ci siamo momentaneamente trasferiti a Bora Bora, quindi il Pride Village è a Bora Bora, qui abbiamo Antonio, Stadiel e Valentina allora, il nuovo look dei nostri baristi ragazzi, volevo dire che sono emozionato ad avere due delle buonanze, sono veramente, veramente emozionato, vale come queste quadro così, il minimo proprio se non ho qua, a Bologna, 5 euro a Bologna, Gaventani ma di nuovo, e tu mi vissi di nuovo? Direttamente da 1.1, assolutamente, eravamo immagati di siena, esatto, su una crociera bellissima, ma voi due, l'entendete? Un pochetto, il porco, il forno, a seconda dell'occorrenza, ma si può, si può, allora ragazzi, loro sono lo staff del Beach Village, che ho sentito del Beach Village, che sta facendo cacao, Beach Village ha una novità, la sangria, è per un minimo di 5-6 persone, e verrà servita in un albul di vetro con bened e ghiaccio, qui nella sangria, assolutamente freschissima in tutti quanti, si, si, con fragole, banane, fate banane, meloni, mele, opomi, come si suol dire, quindi insomma, noi vi aspettiamo qui fino al 30 di agosto, e assaggiamola perché sia, sento com'è, è buona, sentiamo, qui, mamma mia, complimenti, chi l'ha fatta? All'Antonio, ragazzi, Antonio, Stefano, Daniel, Valentina, mi aspettano qui tutte quante le sere, fino al 30 di agosto, e si balla tutte quante le sere, fino alle 2, anche 3 della mattina, noi vi mandiamo un bacio, manda spagnolo, hola a todos, hola a todos, e lo speramos a chi, ok, in tedesco, basta pronto, in tedesco, e in tedesco, e in porto è fuori, se vedremo qua, qui al 30 di agosto, molto bene o lei, ciao, beach village, ricordatevi,